Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Ragazzi, quest'oggi siamo qui! Indovinate dove? Da King degli Horror non potevo non portare questo gioco Anche perché ho scoperto una cosa davvero pazzesca Stiamo parlando di Ice Cream 4 Se volete altri video del genere mi raccomando ragioniamo almeno 10.000 like E supportate questa serie al massimo dei livelli E iscrivetevi al canale perché manca sempre di meno ai 500.000 iscritti Adesso mettiamoci le cuffie, andiamo in game E vediamo un po' di che si tratta Eeeh ragazzi, eccoci qua! Ice Cream 4! Allora, in poche parole ho capito che c'è questo gelataio Che vuole far fare una brutta fine a tutti quanti noi E che ci rapisce! Però a quanto pare non rapisce solo noi Esattamente! Iniziamo! Allora, vediamo velocemente l'intro com'è Siamo all'interno! Ok, qui ci sta la General Scream Factory Quindi l'industria dei gelati Molto buoni questi gelati E che dite ragazzi, ci devo andare? Me lo consigliate questo posto? Io non ne so molto sinceramente Li fanno buoni i gelati? Devono essere almeno a nocciola e a sangue di bambini No, 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 no! Qui ci sta il camiongino del gelato che entra nella pancia Manco lo avesse partorito L'industria dei gelati non me la ricordavo così strana Oh, oddio! Ho preso tutti i bambini! Ci si farò un bel gelato E ci daremmo la vazzaggia con il gelato! Il gelato è molto buono Però se tu inizi a parlare così Mi vai passare alla voglia Guarda, preferirei una crepes Vi lascio solo un istante Così che possiate raccontarvi le vostre avventure Ma non mettetevi troppo comodi No, 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 no Presto entrerete nella mia stanza speciale E vi svincerò E ho l'ultima goccia! E ora siamo intrappolati all'interno di una gabbia! Qui fuori ci sta una specie di mini guardia gelato Che ci sta un pochino spiando, no? Che è fatto guardia per vedere che cosa facciamo noi Ma attenzione Visto che a quanto pare ho capito che questo gioco riconosce I youtuber che giocano Potrebbe succedere qualcosa di particolare Potremmo avere a che fare con Talking Tom magari Voi mi raccomando rimanete fino alla fine Perché dobbiamo assolutamente trovarlo E scrivetemi qui sotto nei commenti Minutaggi in cui lo vedremo Perché sicuramente non lo vedrò sempre Qui ci sta una panca, va bene OI! E una chiave inglese A meno male che non è spagnola questa chiave In inglese penso di dover aprire il lucchetto Ok! Lucchetto aperto! Eccolo lì ragazzi! Mi sta spiando! Tu non mi hai visto! Aaaaaah! Ho visto fare dei movimenti strani! Questo condotto! Questo condotto! Via! 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 Qui ci sono dei bagni E magari potrebbero essere utilizzati in caso il gelato fosse fatto un pochino malino Eh! Eh lo sapete che i vostri gelati fanno un po' schifo Vero? Lo sapete? Aaaaaah! 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 Un trofeo per il miglior gelataio Youtuber name! Non so cosa si debba scrivere! Penso Max Random! Ma com'è error? Perché mi dà gli error? Eh! Ah! 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 Che cosa succede? Per un momento non mi faceva inserire il mio nome? Mi hai trovato! Ma com'è possibile? È un armadio! Ti libererò! Ti libererò mio caro! Lo so che sei in trappola! Lo so che sei in trappola! Hi Max! Max! Aaaaaah! Oh mio! Oh mio ragazzi che cosa è successo? Pure questa no! Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile tutto questo! Ha parlato come Talking Tom! Ha detto Hi Max! I'm Tom! Sapeva già che ero io! Non è possibile questa cosa ragazzi! Perché piangi? Beh direi che è un motivo a ci state anche più che valido! Tranquilli amici miei! Mi libererò tutti! Era la voce di Talking Tom! No no ragazzi no però! Non è possibile! Non è possibile! Neanche sono arrivato qui! Che già ci sta questo che mi vuole far fare una brutta fine! Non mi sembra assolutamente giusto e rispettoso nei miei confronti! Quindi adesso io lo girerò e tornerò indietro! Ah perfetto! Finalmente siamo arrivati! Qui c'è un guardaroba ma non mi interessa e qui vabbè c'è lo scaffale e qui c'è una porta e dove porta questa porta? Qui vedo che fuori vedo l'uscita! Mi piace l'uscita! Aria fresca! Bella bella! Molto gustosa! Qui penso di dover scendere dalle scale in questo caso! Va bene ok 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 ok! Allora calma ragazzi perché qui mi sa che non dovrei mostrarci! Ma in realtà non dovrei mostrare ancora nella gabby se è per questo! Però noi siamo dei bad boy! Quindi possiamo farcela! Allora qui c'è una scaletta! Penso di doverla sfruttare in qualche modo! Quindi questo non me la fa usare ragazzi! Non capisco il perché! Vediamo se possiamo utilizzare qualche oggetto qui da qualche parte! Ad esempio qui c'è una porta però c'è una X sopra! Questo significa che non può essere utilizzata in nessun modo! Qui invece c'è un piede di porco! Eeeh! Rug! Come cavolo ci sei arrivato qua? Mi scusi! Mi scusi! Sali sopra! Sali sopra! Scappa via! Scappa via! No 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 no! Io sto per i vatti miei! E tu mi devi rompere a me! Oh mio Dio siamo tornati qua! Siamo tornati qua! E allora torniamo un'altra volta dietro! Perché in teoria adesso che abbiamo la chiave di porco! Dovremmo riuscire in qualche modo a poter aprire la porta con tutti i chiodi no? Esattamente questa ragazzi! Questa porta! Esatto! Infatti vedete? Siamo aprendo la porta! Perfetto! Perfetto ragazzi perfetto! Ma Talking Tom dove cavolo si trova ragazzi? Per un momento l'ho solo sentito ma non l'ho visto più di tanto se non proprio all'inizio all'inizio! Vi ricordate? Allora! Aviamo la porta! Ok! Perfetto! Siamo arrivati in uno scappuzzino! Voglio chiederci dentro perché non dobbiamo farci vedere per nessun motivo al mo- Oh mio Dio ragazzi! Tom! Tom dentro qui! Tom mi senti? Tom mi ha intrapolato! E se non so che dirti! Ma è sparito! No 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 no! Ragazzi! Questa cavolo di industria ragazzi! E' maledetta da Tom! Io lo sapevo! Che cosa devo fare con questa cavolo di scala? Ah! No! Oh cavolo! Mi ha trovato! L'ha chiamato Tom! Ne sono sicuro! Maledetto! Ci manca solo un tentativo! Solo uno! E' maledizione ragazzi! Abbiamo... Abbiamo trovato Tom per un momento! Abbiamo trovato Tom per... Poi abbiamo anche trovato una scaletta che adesso abbiamo completamente perso! Hmm... Va bene va bene! Dovrebbe comunque trovarsi lì! Però c'è quel cavolo di Rog che ci ha presi alla sprovvista! Io non me l'aspettavo! Sono sicuro che l'abbia chiamato Tom ragazzi! Sono sicuro ragazzi! Me lo sento proprio! Che è stato Tom per forza! Allora... Torniamo di nuovo qua! Torniamo di nuovo qui! La porta è qua! Eccola qui la nostra scaletta! Dobbiamo tornare nella posizione in cui eravamo prima! Ovvero... In quella specie di stanza! In quello sgabuzzino segreto che sicuramente non potevamo raggiungere! Quindi... Apriamo questa porta! Scendiamo qui giù! E vediamo un po' se possiamo utilizzare questa scala! Magari proprio come su po'... Ma... Ma qui sotto c'è il Rog? Ragazzi ma qui sotto c'è il Rog? Però io non ce la posso fare ragazzi! E mi sento che questa scaletta va utilizzata proprio lì! Proprio lì dove non ci siamo riusciti! Perché se no dove? L'ho visto! L'ho visto! L'ho visto! L'ho visto! Va bene! Apriamo questo guardaroba! Vediamo se c'è qualcosa qui dentro magari che ci possa aiutare! Di nuovo Tom! Tom! What do you want to me? Do you want to become an ice cream? Ma anche lui! Con sto gelato! Ma è impazzito! E' sparito di nuovo ragazzi! E che cavolo! E lui pensa di sia di nuovo messo sotto qui esattamente! Ok! Sono riuscito a salire la scala! Lui se ne ha corto! E' fissuto! No 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 ragazzi! Non è possibile! Non è possibile questa cosa! Non è possibile! Come cavolo faccio? Con questo qui! Che appena arrivo! Mi vede! Ah! Tom mi viene! Mi è andato via! Mi è andato via! Mi è andato via! Mi è perfetto! Ragazzi non ci sto capendo niente con questa gelateria! Mi sa che non mangerò mai più gelato in tutta la mia vita! Vabbè ho capito! Mi vado a deprimere un po' nel cesso! E lo so! Mi sa che è l'unica cosa che mi conviene fare! Nulla di interessante vero? E beh è un cesso! Che cosa possiamo pretendere da un cesso? Ah! Che bella cacata! Sto scherzando! Sto scherzando! Sto scherzando! No cacato! Non ti arrabbiare signor Rog! Vedete se riusciamo a trovare qualcosa! Se riusciamo a fare! Infatti no! Si senza che Tom ci rompa! Qui entra youtuber name! Ragazzi ci riproviamo! Prima mi è andato un errore! Non capisco il motivo! Proviamo di nuovo ragazzi! Magari questa volta si sgliccia! No! Error! Error! Eh vabbè error! Ah! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Un gelato rosa! E che devo fare con un gelato rosa? Scusate! Me lo lecco! Me lo lecco! Dopo tutti sti casini che sto facendo! Un bel gelatino ci starebbe! Tom! Di nuovo! Follow me! Cosa? Ha detto follow me! Seguimi! Ragazzi lo devo seguire! Oh! È tornato all'interno della stanza! Seguiamolo ragazzi! È entrato qui dentro! E che ci fa Tom qui dentro? Tom? Non è che è una trappola vero? Non è una trappola Tom! Tom! No Tom! Tom! Ma lo è veramente schifo! Tom! Tom è veramente schifo! No! Tom! Si è messo pure qua! Non posso muovermi! No! Tom! Mi ha fatto perdere! Che cosa sta succedendo lì dentro? Rog! No! Oh cavolo! Maledetto Tom! Eccolo! Eccolo! Brutto ma scalzone! Me la pagherai! Mi muove! Va bene! Ragazzi lo accetto! Se volete un continuo fatemelo sapere supportando questo video! Per adesso io finisco qua! Il maledetto Tom mi ha fatto finire! Quindi in realtà non è veramente intrappolato ma è un complice! Ci vediamo in un prossimo video! E ciao ragazzi! Bye!